Intro Salute a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio dell'Elimination Nuzlocke a Pokémon Rosso Fuoco Signori miei, nello scorso episodio abbiamo superato il Ponte Pepita, abbiamo ottenuto il biglietto per la MNN e siamo giunti ad Aranciopoli Signori miei, nella votazione dello scorso episodio ancora una volta siete stati davvero clementi scegliendo ancora la casella vuota e quindi signori miei anche questa volta non abbiamo perso nessun Pokémon anzi tra poco noi andremo, si spera, a guadagnare uno perché mi avete fatto notare che nello scorso episodio ho anche saltato la cattura al percorso 25 e quindi subito da adesso oltre a lasciare un bel mi piace assisterete alla cattura di un nuovo Pokémon Si spera Quindi vediamo che ci capita, ti prego Oddio, il Rochet mi è capitato, mi è capitato il Pokémon del Rochet Trovate Fish allenato così come Elix Questo mi ha fatto destino obbligato, io ho una paura matta Oh, Pokéball Sì! Uh, che culo, non ci voglio credere Ok, l'abbiamo preso, lo chiamo Rochet, pure lui, un altro Ehm... no ma no, chiamiamolo Luke e basta Quindi un saluto a Rochet che ci segue da casa, so che segue la serie Se non vedi questo episodio mi disiscrivo dal tuo canale E nulla signori miei, in questo episodio oltre ad aver catturato questo Pokémon e vi ricordo che adesso siamo in sé, in squadra Andremo ad esplorare, a visitare, a ottenere comunque la MN Taglio sulla... Sulla MN Anna se non sbaglio si chiama Ehm... no, ecco esatto, il condivido esperienza volevo Sono troppo abituato alle nuove generazioni che ce l'abbiamo negli strumenti base Ok, possiamo tornare verso Aranciopoli Inoltre vi stavo dicendo, se riusciremo a fare in tempo batteremo anche Elite Surge Inoltre fatemi sapere nei commenti se volete che io rifaccia nel prossimo episodio O magari fra due episodi, dipende come mi organizzerò con le registrazioni Se volete che io rifaccia la cattura ad Aranciopoli Perché nello scorso episodio abbiamo provato a farla Ma per un errore mio, ossia non avevo Pokéball L'abbiamo persa Però se volete che io la rifaccia, possiamo riprovarci Fatemi sapere qua sotto in un commento Direi di non perdere ulteriore tempo e di andare verso la MN Anna Quindi se non l'avete ancora fatto lasciate un bel mi piace Mi raccomando, è importante per il bel proseguimento di questa serie E rispondete alla domanda del giorno come al solito Detto ciò, eccoci qua, MN Anna Ora non so se la farò tutta Ma io penso di sì Qua mi ricordo benissimo In teoria doveva esserci un'iperpozione Ma ne abbiamo trovato una mentale erba Qua ci sono un botto di strumenti Quindi vorrei esplorarla tutta questa nave Anche se ci saranno tanti allenatori Ma comunque li velocizzeremo Quindi non penso sia un problema Pokémon Sole Luna Confirmed XD Tuono Shock Fulmine Ok, perfetto Fulmine è una... È la madossima se sei drogato Sei evidentemente drogato Però sei anche morto Perfetto Credili È il rossoio Ok, natural forza si trasforma in comete Onda calda Pioggia danza Sei stronzo però Ma con la pioggia Le mosse di fuoco Diminuiscono di potenza? Sapete che non ricordo Non ne ho idea Vabbè Comunque Anche questo trattini Adesso dovrebbe salutarci Perfetto È stato un piacere Curiamo fish Dovrei avercele delle pozioni In teoria Sì, ne ho cinque Facciamole bastare Anche se in teoria ragazzi Su questa nave Dovrebbe esserci una Che ci cura i Pokémon Ma siccome non ho voglia Di perdere tempo A tornare indietro Ce li curiamo così Alla... Ok, non dovrebbe farmi male Eruzione Perché hai pochi PS Perfetto La paura Ok, mi togli due PS Uno addirittura Madonna la potenza di questo Likitang Che non ha è uguale Signori miei Ok, battuti i primi marinai In teoria su questo piano della nave Non dovrebbero essere troppi Altari Attenzione Il drago non drago Crescita Tuono shock Morso Aia fa malissimo Non crittare Non fare cose strane Ok, perfetto Andato giù Luke livello 15 Explode Io però switcho E... Mando Lady Bird Caputana Eva Muori Ecco 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 Calciorulo Ok, perfetto Ce lo siamo levati Luke Madonna sta già salendo Di un botto di livelli Mamma mia Sale più di livelli Che di iscritti Tra un attimo questo Mamma mia Incredibile Rochet Signori miei Quanto è cresciuto In sto periodo Rochet Gassosa Nel frattempo Vabbè Basta parlare di Luke Che poi la gente Mi accusa di Oddio Fai pubblicità Gli youtuber Che schifo Che fai Oddio Pensavo che fosse Pensavo fosse Acqua fresca Sono tardo Allora Proseguiamo Clefable Ok, per ora Non ho particolari Non ho riscontrato Particolari problemi Con i pokemon Ehm Come non detto Sintesi Ah, io me l'aspettavo Chissà perché Me l'aspettavo Tra l'altro Signori miei Il pokemon Che ha ricevuto Più voti Dato che E' stata scelta La casella vuota Ma il secondo Che è arrivato Ehm In classifica Diciamo Se così si può dire E' stato Caskoff Scelta che Ehm Cioè Non condivido Ehm Capisco Diciamo Perché Diciamo Non è proprio Ehm La La Belen Rodriguez Dei pokemon Insomma Un po' cancerogeno Comunque Allora Ce l'ho io Una bacca frago Da qualche parte Nooo La bacca salac Ma la bacca frago Giustamente Ma una bacca prugnolo Ho visto Si Attenzione Questo creepy stories Che è veramente Il miglior youtuber Ehm Ok Ho appena trovato Una gassota Direi di utilizzarla Abbattiamo anche Questi qua Signori miei Ecco Articuni Siamo bene Ehm Su questo piano In realtà Ci sono un bordello Di allenatori Mi sono sbagliato E vabbè Ah ma io ho onda calda E ditelo Madonna Mi sono dimenticato Raga che sto poco Comunque E anche di tipo ghiaccio Battuto marinaio Questo qua come minimo Cefragrodon No Squirtle Tuono shock Va quasi giù Panciambuno Minchia manuale che ha fallito Via Ehm Non ho letto Ah ok Furret Ero a zoio Rimonta Infame muori Ok Su Suicun No vabbè Ditelo se avete altri Leggendari in cantina E non lo so Scintilla Paralizzato Godo 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 Enormemente Ok Possiamo proseguire Tornare di sopra E se non sbaglio La stanza No Non sei tu che mi curi Sei tu Perfetto Buongiorno Signorina Olè Allora Dai proviamo a mettere ilix davanti ragazzi E iniziamo ad affrontare anche questo gentiluomo Che ha univisaur Spara lance Oddio gli ho fatto No No Ok Oddio Oddio Ho avuto l'ansia Cosa vuole imparare individuo No neanche per sbaglio Livello 18 per Luke Vorrei imparare teletrasporto No Luke Non andrei da nessuna parte Lo so che sono un allenatore di merda Ma Ma devi rimanere qui con me Swell of Tuono shock Azione Madonna mi distruggerà Signori miei Tuono shock E giù anche lui Perfetto No signori miei Ho notato che non ho controllato bene Le sue mosse Destino obbligato Furia Sdoppiatore Tossina Ok sono abbastanza cancro Statistiche Abilità più Si potenzia con meno Qualcuno mi spari Vi prego Entrate in camera mia E tiratemi un proiettile Che mi deve trapassare Tra chi è esofago Tutti insieme appassionatamente Ferro scudo No Tuono shock Allora Caro fish Sarebbe una cosa carina Che tu imparassi un'altra mossa Di tipo elettro Perché Con tuono shock Non si può obiettivamente Andare avanti Penso tu sia d'accordo con me Ma L'ho aperto Tipo E vabbè Ottimo Ottima mossa A riposo Devo dire Luke livello 19 Andiamo avanti così Signori miei Stiamo andando davvero spediti Anche con l'allenamento Ma Tua mamma cameriere Forse Qua non c'è nessuno Questa qua Ok perfetto Pensavo di essere ribalzato una Dio mio Quanti cazzo siete Madonna Sono un bordello Ninetease Il mio pokemon preferito Signori miei Visto che la gente Continua a chiedermelo Nelle live Sì Il mio pokemon preferito È Ninetease Tanto so che non succederà nulla E continuerete a chiederlo Ok Ero abbastanza convinto Di outspeedarlo Sarò sincero Allora Mettendo avanti Nugget Che per oggi Non ha ancora combattuto Poi proveremo anche con Kaskoff Signori miei Swinab Bracer Bracer Bracero Senza cibola Monkey Gelo Gelo raggio Gelo raggio Giù Anche lui Perfetto Sciogliamo un po' Le spalle Signori miei Perché No Dimmi che non ho letto Veramente Raggiro Dio mio L'utilità di questa mossa È paragonabile All'utilità Di un accordatore Del basso Per la chitarra Cioè Non c'è Praticamente Oh Torna qua Ah no Non è di tu che mi davi i dati Del pocket x dis Allora Qua c'era qualcosa di interessante Innanzitutto questo strumento E poi Qui dovrebbero esserci Una spettrotarga Una metalpolvere E una ricarica totale Attenzione Ero già pronto a bestemmiare In dieci lingue Invece il gioco Mi ha voluto bene Allora In teoria da questa parte Ci dovrebbe essere il rivale Ma prima volevo Grazie Volevo appunto No Yanmadrammer Signori miei Hashtag Yanmadrammer Nei commenti Ehm No volevo appunto Esplorare il ponte della nave Perché dovrebbero esserci Evidentemente ci sono Degli allenatori da affrontare Contropiede Ti contropiedizzo la mamma Ok perfetto Ci siamo capiti Possiamo proseguire Tu secondo me eri un altro allenatore Non è No Era questo poveraccio qua Che puliva la merda Non è vero Eri tu Oh perfetto Lo trovo Signori miei Sembrava Sembrava che Non dovesse esserci Ok nel frattempo Bracere questo è morto male E Markrow Signori miei Ok ci siamo capiti Questi atti di ribellioni Non sono accettati Nella Creepy Ink Allora Vediamo un po' Abbiamo due pozioni Che in teoria bastano Perfetto Qua doveva esserci Dovrebbe esserci il tipo Esatto Che mi dà i dati Del Pokédex di Snorlax Ottimo E qua ci sono un pescatore E un gentiluomo Io ho realizzato In questo preciso istante Che la prossima palestra Sarà Sarà quella di Lit Surge E voi sapete Com'è fatta la palestra Di Lit Surge Già Lo sapete benissimo Qualcuno mi spari 2.0 No calmamente Se questo qua comincia a fare calmamente Poi mi apre il culo Sottocarica Ok Kaskoff Ti prego Buttalo giù Devi buttarlo giù Ok perfetto Ho avuto seriamente paura Per l'incolumità Di questo Pokémon Gligar in teoria Dovresti andare giù Non è vero Perché Gligar È di tipo Terra volante E non veleno Come tutti pensano Mega assorbimento Però dovrebbe farti un pochino più male Dio se mi paralizzi Frustrazione Però calmati Cioè non è Guardalo No Ho misclicato Ho misclicato Ho misclicato Mannaggia a quel signorino lì Che sta Per compiere gli anni E chi vuole Intendere Intenda Gloom Ho mancato Ho sbagliato Ho fatto Dovevo mettere davanti Kaskoff Oh signori miei Creepy Stories Sta impazzendo Super colpo Perfetto Un mossa Cioè strumento più inutile Non penso di averlo mai visto Scrivete nei commenti Se avete mai utilizzato Un super colpo Che non lo so Vi faccio l'estrema unzione Qualcosa del genere Ok Allora Non dovrebbero mancare Troppi allenatori Allo scontro Con il rivale Buongiorno Lei non mi sfida Ero abbastanza convinto Però vabbè Fa niente Non è importante Voi si ovvio C'avete la faccia proprio Di gente che vuole Picchiarmi a sangue Bello Silcoon Proprio Uno di quei Pokémon potenti Ma che cosa usi Resistenza che fai schifo Guardalo Ecco il figlio di puttana Ok muori Ti sta bene Butterfree Oddio Questa qua è fissata Con i coleotteri Signori miei Ditele qualcosa Ditele che non esistono Solo quelli Ok Anche Kaskoff Dovrebbe imparare Qualche nuova mossa Perché non si può Andare avanti Di bestemmie Non si può Andare avanti Di bestemmie Cristo Kaskoff Devi shot Mi sta Mi sta facendo Cinesi Io non capivo Che cazzo fosse Il problema Io non capivo Perché non attaccassi Nel frattempo Muori Ok Vi giuro Che Sono andato Non lo so Inestasivistica Non ci ho capito Più nulla Eh Sabbia a fiume Però sei stronzo Mando Elix Che non subisce il dan Minchia Ma si può Si può Che mi stava Per fare calcio In volo Mi stava per Predictare Senza volere Io vi giuro Cioè Non stavo capendo Quello che Che stesse Che stava succedendo E sto pure perdendo L'abilità Nel parlare italiano Cioè Non capivo Perché non attaccavo Poi mi sono accorto Che mi ha fatto cinesi Quindi E vabbè Cose belle Proteina Perfetto Market Aspettami No Allora Andiamo a Curarci Perché Kaskoff le ha prese di santa ragione Da un Butterfree Vergognati E allora Qua sono appena entrato Vero Si Le ultime due stanze Non dovrebbero contenere Allenatori Se non ricordo male Esattamente Queste due qua Non mi sfidano Sono sicuro Gary Che io Dovrei aver chiamato Gary Si Ciao Creepy Mi aspettavo di trovarti qui Creepy Ce l'hai l'invito E come procede il tuo Pokédex Ho già catturato 40 specie di Pokémon Sai Ce ne sono ovunque Si aggirano nell'erba alta Ma Se fanno schifo Faranno comunque schifo Adesso Arceus In terza genna Così da Qualcuno mi ricordi Di fare silenzio Per piacere Cristo Dio Cristo Dio Allora Io non so se lo butto giù Dubito Quindi Allora Acciaio 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 Io contro Acciaio Non ho nessuno Che regge Però Un nugget Ok Perfetto Regge abbastanza bene Geloraggio Dovrebbe Ok Perfetto Ce la siamo cavata così Ottimo Mister Mime Mister Mime Boh Provo un fango Però non sei di tipo Foletto adesso Giusto Bracere Sei più di tipo Aspirapolvere Se non sbaglio Qualcuno mi ammazzi Mi prego Desiderio Mai tutti i PS God Geloraggio A casa Perfetto L'ultimo è un Pinci Mi cadi in basso Con Pinci Ciao È stato un piacere Cioè Non è vero in realtà Non è stato per nulla Un piacere Ciao caro mio rivale Benissimo Parliamo al tipo Dammi taglio E vattene con questa nave Salpa Vai a Olivinopoli Dove devi andare Non lo so Io non ne ho idea Voglio solo uscire da questo inferno Ok Bam 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 Ditemi signori miei Se Ditemi nei commenti ovviamente Se io non ero l'unico Quando giocavo a Pocomorossofuoco E vela da foglia Che aspettava che la nave tornasse No sul serio Non sapevo come andare avanti Ed ero fermamente convinto Che dovessi aspettare Che la nave Tornasse Insomma E nulla Scrivete rip Nei commenti Per Creepy Stories Bambino E allora Andiamo a vendere questo E direi di prenderci Un po' Di super pozioni Tipo 15 Direi che dovrebbero bastare Gli antiparalisi Non li prendo Perché tanto Signori miei I Pokémon Sono randomizzati Insegniamo taglio A un nostro Pokémon Sprecando una mossa E Poca scoff Tu hai localizzato Non lo uso mai Quindi ciao È stato un piacere Ok Abbattiamo questo alberello E andiamo Ad affrontare la palestra Sì Abbiamo 16 minuti Bastano E avanzano Mettiamo davanti L'Ukraga Proviamolo Direi di affrontare Per prima cosa Tutti gli allenatori Così Ce li leviamo Dalle balle E poi Andiamo A Il rocet Una tramutazione Del rocet Che diventa Improvvisamente Fortissimo E Nulla Dicevo Dicevo Ah sì Affrontiamo tutti gli allenatori Così ce li leviamo Dalle palle Non ci pensiamo più E dopo Signori miei Dopo Andremo A morire Sì Perché quello È letteralmente Morire Non saprei Come definirlo Altrimenti Quel giochino Di merda Di sta palestra Scintilla Genera un turbine Muore Perfetto Qualcuno faccia un meme Con un linon O linun Penso si pronuncia Con scritto Genera un turbine Muore Sdoppiatore Lo mando quasi a casa Reggi Reggi Ok Perfetto Furia Madonna Il rocet Rischia Ma si porta A livello 24 Signori miei È fortissimo Sto pocon È già a livello Degli altri Ma Ma che bestia Non è Livello 24 Mamma mia La potenza Di questo essere Non ha Eguali Credili Ok Contro credili Non penso di poter fare molto Quindi switch E mando nugget Che dovrebbe avere geloraggio Che Se hai efficacia per 4 A regola ti manda a casa Non hai efficacia per 4 No perché credili E roccia Che dico Vabbè Comunque è andato giù Perfetto Io sono tentato Io sono tentato di fare silenzio Wow Non l'avrei mai detto Però ovviamente Non farò silenzio Acqua Acqua Fuoco Oddio Oddio Mi sento male Mi sento Mi sento Male Ce l'ho fatta Al primo colpo Praticamente C'è Qualcuno Qualcuno Mi mandi una medaglia Qualcosa Vabbè Leadsurge a noi due Ehi tu Cosa ci fai qui Non ce la farei a vincere Puoi contarci Devi sapere che i pokemon Elettrici Mi hanno salvato In guerra Hanno paralizzato i miei nemici Proprio quello che succederà a te Qualcosa mi dice Che non avrai neanche Un pokemon Di tipo elettro Figliolo mio E infatti Hai un bellissimo Butterfree Noto pokemon Di tipo elettro Sì Dalla prima generazione Stoppiatore A casa Luke È sempre il migliore Signori miei Ok Contro Raidon Non può fare molto Però Kaskoff C'ha mega assorbimento Giusto Quindi a regola Dovresti togliergli Almeno metà vita Ok Perfetto Non mi fare malissimo Minimizzato No Questo qua comincia a fare il Koga Meglio che vada a casa Ok Perfetto Aiutiamogli a casa loro Colpo di fango Ottimo Colpo di fango Mi sarà utilissimo E toglierei furia raga Perché tanto Già sdoppiatore Non la userei Kaskoff Livello 26 Non la voglio La tua medaglia Non sei degno Sicuro che Conterrò Da shock Guarda Ci scommetto Le palle Andiamo a vedere Centri pugno Perfetto La mossa che non colpisce mai Che bello Allora Siamo a 19 minuti E 34 E io direi che possiamo Possiamo molto velocemente E prendendo anche un repellente Andare a prendere Il La mn flash Quindi faremo la cattura La grotta Andremo a prendere Flash Nel prossimo episodio Esploreremo anche Il percorso 11 Prima di andare Verso Monte roccioso Quindi Entriamo qua dentro Cerchiamo la nostra cattura E speriamo che esca Qualcosa di buono Sarai la prima di servo Non deludermi E non ci vuole entrare Porca di quella puttana Entraci Ti strappo le palle Colpo di fango Non mandarlo giù Ok Perfetto Cioè Oddio Se l'avessi mandato giù Non è che mi sarei fatto Troppi problemi Che schifo di cattura Signori miei Vuoi Entrare Nel box A vita Lo chiamiamo Lo chiamiamo Si scriverà così Kauna Penso di sì Kauna Perfetto E' stato inviato Perfetto Il suo destino E' segnato Signori miei Allora Attiviamo il repellente Molto velocemente E proseguiamo C'è la possibilità Che io incontri Un pokemon Anche con repellente Perché in questa grotta Non so per quale motivo Arcano Vengono fuori dei pokemon A livello altissimo Che in teoria Dovrebbero essere Dei duc Trio Ah tra l'altro Qua c'è il collegamento Con plumbeopoli Allora No nulla La mt che dobbiamo ottenere Però si trova Qua Noi dieci Poicon Dovremmo averceli A regola Per Manco Per Ugaz Ok Allora Io stoppo qua Signori miei Catturo Tre pokemon Fuori parte Liberandoli subito dopo In modo tale Da poter ottenere flash Nel prossimo episodio Esploreremo il percorso 11 Ci dirigeremo Verso il monte roccioso E molto probabilmente Lo inizieremo anche Se non lo finiremo Detto ciò Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace A commentare A iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Rispondete alle domande del giorno Che sarà come al solito Qua sotto Nella sidebar E passate ai social Che invece saranno In descrizione Detto ciò Noi ci becchiamo In un prossimo video